Ciao ragazze, oggi video haul un po' insolito per il mio canale ovvero vi mostrerò dei bijoux che ho ricevuto grazie a Valentina l'amministratrice della pagina lavori all'uncinetto e non solo giorni fa avevo postato su facebook la loro pagina, la sua pagina perché avevo visto vari oggettini e mi piacevano, vi ho voluto fare pubblicità perché davvero le ho trovate carini come oggetti e per ringraziarmi mi ha mandato alcune delle sue creazioni per prima cosa vi faccio vedere questo che è fantastico è rigido con questa pietra bianca in caociù con il nero e applicazioni in argentate tutte lavorate davvero molto molto bello e inizio insomma a non mostrarvi i vari bijoux me li ha mandati in queste scatoline qui molto pratiche insomma per evitare che si rompevano durante il viaggio e allora inizio con questi orecchini all'uncinetto stupendi sono con il marrone e alla fine portano questa pietra in madreperla color tortora quindi si possono abbinare davvero con tutti i tipi di outfit sono davvero molto molto carini tra l'altro adoro questo tipo di orecchini perché sono molto leggeri non danno per niente fastidio e sono fatti proprio all'uncinetto e sempre per quanto riguarda orecchini fatti all'uncinetto ci sono questi qui che sono rosa cipria con alla fine portano una perlina viola molto molto carina sempre facilmente abbinabili perché è un rosa cipria che bira al beige top quindi si possono abbinare facilmente anche questi e sono davvero molto molto graziosi poi sempre per quanto riguarda gli orecchini vi faccio vedere questi che sono un po' più particolari questi qui ad esempio si possono anche abbinare a questo bracciale qui se volete e sono questi qui con i teschietti verdi in pietra e sotto portano la stessa applicazione del bracciale quindi potete ricreare o questo completo oppure metterli singolarmente sono molto molto graziosi io con una babbea ve li ho messi al contrario per questo si vedeva uno schifo e sono questi qui sono molto molto carini e poi tutti quanti portano questo cartoncino molto molto carino con il nome della pagina insomma poi altri orecchini molto molto carini sono questi qui con delle pietre azzurre ovviamente i prezzi non li so vi lascio giù nell'info box la pagina di facebook dove insomma voi potete mettere mi piace e magari contattare in privato Valentina per quanto riguarda i prezzi oppure la creazione di qualche oggetto in particolare se volete o qualche prodotto insomma qualche oggetto che mi avete visto mostrare in un video se siete interessate perché per quanto riguarda i prezzi non ve li so dire perché me li ha mandati e così ci sono questi qui che sono a cerchio con una goccia pietra turchese e sottoporta tutte queste perline turchesi fantastiche e in abbinanza come direbbe gnappetta abbiamo due tipologie di bracciali ho questo qui che è davvero fantastico è fatto tutto di perline ci sono sia quelle liturchesi che riprendono gli orecchini ma anche perline nere e perline arancioni marroni molto molto carino e particolare secondo me come completo oppure per le ragazze che insomma gli piacciono le cose più semplici io adoro tutte queste cose particolari c'è anche questo braccialettino qua che al centro porta le tre perline che riprendono gli orecchini e ai lati portano queste altre perline però fatte a cubo sempre dello stesso colore e la qualità di questi bijoux sono davvero buona anche per quanto riguarda insomma i materiali sono davvero di ottima qualità davvero davvero di ottima qualità davvero non ci fate caso ogni tanto sono anche un po' schizofrenica che ripeto le cose all'infinito e poi sempre in abbinanza come direbbe ne affetta potete fare se volete o un completo un po' più semplice così che ad esempio o li metterò così magari dipende anche come sono vestita con le crocettine vedete che tra l'altro le croci quest'anno vanno un sacco ho visto sia pure su Pinterest Instagram vanno un sacco queste croci dappertutto e farei un outfit capito con abbinato questi orecchini e questo brazzoletto oppure se è una serata particolare farei anche qualcosa del genere comunque è molto molto carino no questo è davvero molto molto bello poi come altri due bijoux questa volta sono degli anelli mi ha mandato questo anellino a spirale a molla quindi adatto penso a qualsiasi tipo di di mano vedete così indossato con questi charm molto 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 carino ed è con delle perline neri argento marroncine questi cristalli molto molto luminosi davvero fa un bell'effetto sulla mano come potete vedere molto che brilluccichea come piace a me oppure questo questo anello qui che è molto particolare perché è fatto con queste pietre verdi tutto intrecciato con questi fili di ferro ed è molto particolare questo qua a me va un po' largo quindi dovrò stringerlo in qualche modo però penso che si può regolare facilmente voglio dire mi ingegnerò e lo regolo molto molto bello in particolare come potete vedere si fa notare anche solo con questo anello qua fate la vostra bella figura secondo me va bene ci fate caso ogni tanto divento poi un altro bracciale fantastico è questo qui sempre sempre la stessa tipologia di questo qua che ho messo oggi in pie con questa pietra tutta sbrilluccicosa trasparente c'è anche questo qui sempre rigido come potete vedere porta le perline nere e questi qua trasparenti e poi porta questi charmo argento molto molto belli messo assieme faccio vedere sono carini sono molto molto carini tra l'altro sulla pagina ne ho visti tanti altri pure quelle perline colorate sono davvero molto molto carini e insomma vi consiglio di andare a dare un'occhiata a questa pagina perché oltre a questi qua che vi ho fatto vedere perché io vabbè mi impazzisco perché a me i bracciali rigidi piacciono molto li trovo molto particolari molto chic e ne ho visti tanti con delle perline colorate o fatte in un altro modo che sono davvero carini allora possiamo questi altri qui negli scatolini e adesso vi faccio vedere le creazioni in pizzo e all'uncinetto scusate allora abbiamo questo mega bracciale fatto all'uncinetto viola e l'effetto è tipo così tipo polsiera verrebbe che comunque secondo me lo trovo molto originale comunque sono cose fatte a mano non sono di quelli lì che vengono fatti tipo in cina e la qualità insomma si vede toccando si vede proprio la qualità del cotone davvero ottimo ma pure come viene lavorato vedete non sono i classici braccialetti che si trovano dai cinesi ovvia discorrendo questo è indossato questa fantasia qua tipo non so spirale non saprei definirla e viene con questo gancettino applicato all'estremità e si chiude in questo modo molto molto grazioso ovviamente questi sono colori un po' più estivi ma ci sono anche più scuri ad esempio c'è questo qui nero molto molto carino questo qua è più morbido rispetto agli altri quindi è un altro tipo tipologia di cotone secondo me che comunque vedete sulla mano fa un bellissimo effetto questi qua secondo me anche in estate fanno la loro bellissima figura poi c'è questo completo dorato non lo so mi ricordo a Natale questo completo fatto così non so non vi saprei dire il tipo di materiale e viene fatto tipo così tutto sbrilluccicoso con questo fiore al al centro vedete e in abbinanza come direbbe gnappetta ci sono questi orecchini molto molto carini e luminosi se riesco vorrei fare una cosa garbata però comunque sono molto graziosi pure indossati poi un altro completo molto molto carino infatti è davvero particolare è il completo con le violette adesso vi faccio vedere abbiamo il braccialetto con le violette cioè vedete com'è preciso è davvero fantastico e fa un effetto molto molto carino secondo me altro che cruciani vedete c'è si vede è fatto in 3D sotto c'è il colore più chiaro e sopra il colore più scuro con al centro questo giallino che fa il che disegna il fiore è davvero molto molto carino e in abbinanza sempre come direbbe gnappetta abbiamo gli orecchini sempre fatti tipo in 3D perché portano due strati di di cotone e sono davvero molto molto carini e insomma è un completo secondo me particolare poi un altro paio di orecchini fantastico secondo me sono questi qui fatti a spirale infatti sto cercando di capire davvero vedete come si mantiene bene il il tessuto perché questo è fatto sempre a lunginetto però a spirale e sono davvero molto molto carini e particolari tra l'altro questo verde quest'inverno andrà tantissimo quindi li sfrutterò molto 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 carini questi e questi qua sono singoli cioè non mi ha mandato non so se poi ovviamente sulla sua pagina ha anche i brazzaletti però mi ha mandato a me questi qui senza senza il bracciale al limite uno può chiedere se si può ricreare e fare insomma il coordinato come gli altri che vi ho mostrato in precedenza perché sono davvero particolari poi un altro braccialettino che comunque ho trovato simpatico è questo qui con gli anelli eppure è molto molto carino sempre con alle estremità le chiusurine queste qua le porta in argento le altre erano dorate comunque sono ben curati nei particolari e alla fine vi ho lasciato il completo con la collana fatta sempre di un ginetto fatta con un tipo collier si può dire questa qua secondo me con l'ambruzzatura è molto molto bello con qualche maglia scollata particolare tipo blu cobalto e porta la collana gli orecchini che sono carinissimi se riesco ve li faccio vedere e portano la perlina e questo fiore fatto un ginetto sempre con lo stesso blu della collana e per finire c'è il braccialettino con questa fantasia qui molto molto carino e niente ragazze vi ho voluto mostrare questi accessori bijou che mi ha mandato Valentina per ringraziarmi che poi alla fine non ho fatto niente quando mi piace una pagina mi fa piacere pubblicizzarla perché comunque apprezzo molto il lavoro di queste ragazze che realizzano questi bijou fatti a mano oppure ad esempio avete visto questi braccialettini all'uncinetto che io francamente non saprei manco mettere mano voglio dire e ho voluto fare un po' di pubblicità sfruttando la mia cioè non la mia popolarità perché non ce l'ho comunque tutte le ragazze che mi seguono su facebook se qualcuna era interessata e niente ragazze io vi mando un forte bacio vi lascio nell'info box i vari contatti se siete interessate e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze